Amici di Fano TV, ben trovati ad un altro appuntamento con un'impresa in regione, l'appuntamento dedicato al confronto tra la CNA in collaborazione con CRAI e naturalmente i candidati a governatore della regione Marche. Andiamo subito a conoscere i nostri ospiti, diamo il benvenuto al candidato governatore per la coalizione del centro-sinistra, Maurizio Mangialardi. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E buonasera naturalmente anche al segretario della CNA, Moreno Bordoni, ben trovato. Buonasera a tutti. Mangialardi, lei si presenta come candidato governatore delle Marche con la coalizione del centro-sinistra ed è qui questa sera proprio per rispondere alle domande relative al mondo delle imprese. visto che il vostro è, diciamo, il governo uscente per le imprese del futuro nelle Marche, che cosa dobbiamo aspettarci? Beh, intanto ci dobbiamo aspettare una rivoluzione culturale. Io ho detto voglio la regione a casa tua e vale ovviamente per le imprese, una modalità che aggredisce la burocrazia, che mette nelle condizioni le imprese di accessi facilitati e quindi penso a quello che possiamo fare per i trasporti, quello che possiamo fare per la sanità pubblica e quello che possiamo fare per le imprese. Vedete, l'abbiamo fatto come sindaci, lo possiamo fare anche come governatori. Moreno Bordoni, a te la parola. Ben trovato Mangialardi, grazie di essere con noi questa sera, ma soprattutto grazie di aver accettato il confronto con la CNA e quindi con il mondo dell'impresa in un momento storico in cui penso gli imprenditori abbiano più bisogno in assoluto delle buone risposte della politica. Vado subito con un tema molto caro alla CNA anche a livello nazionale. Noi da anni che portiamo uno studio specifico su questa problematica che è la tassazione. La tassazione è per i nostri imprenditori nel nostro paese ormai a livelli intollerabili e anche la tassazione locale contribuisce a questo triste primato. Cosa possiamo fare per i nostri imprenditori e per dargli ulteriore competitività soprattutto nel mercato globale? Beh, intanto io penso che dobbiamo valutare quello che ci è accaduto e un ripensamento del nostro sistema. Questo è il tema. Ovvio che ci sono azioni che possiamo mettere sull'IRAP per le aziende che sono in difficoltà. Penso a una valutazione complessiva però delle grandi risorse che possono arrivare a questo territorio che ne possono liberare altre che vengono utilizzate proprio per diminuire la pressione fiscale sulle nostre aziende. Mangialardi lo ha appena toccato come argomento inizialmente quello della burocrazia. Uno dei fardelli più pesanti per i nostri imprenditori riguarda proprio la burocrazia, spesso anche complicata dalle amministrazioni locali. Cosa possiamo fare per snellire la macchina burocratica e rendere la vita all'imprenditore un po' più facile? Guardate, abbiamo di fronte un nuovo mondo dove da una parte contano le risorse, dall'altra inevitabilmente invece pesano i tempi. I tempi si accorciano solo se aggrediamo la burocrazia a tutti i livelli. Il digitale su questo può fare la rivoluzione, la fibra che deve arrivare in tutto il territorio e poi provvedimenti normativi che vedono coinvolti anche le associazioni di categoria come le vostre per costruire percorsi che anche a norme attuali possono ridimensionare l'effetto della burocrazia sulla azione delle nostre imprese. Penso alla costruzione dei bandi. I bandi vanno confrontati e costruiti con chi saranno poi fruttori finali di carattere generale perché solo così si toglie il peso dell'impostazione burocratica nelle nostre strutture centralizzate. Andiamo adesso a dar voce ai nostri cittadini e lanciamo subito il primo contributo. Il tema del credito è sempre al centro delle preoccupazioni delle imprese. Cosa intendete fare per agevolare i contributi alle aziende? Mangialardi, che cosa rispondiamo a questa donna? Ma guardate, noi abbiamo sperimentato, lo dico io anche con un'altra giacca, il percorso con la piattaforma 210. Quello è un vero esempio di quello che possiamo fare. Nel senso che bisogna dare più peso alle autocertificazioni, mettere nelle condizioni il cittadino e le imprese di dichiarare e in funzione della propria dichiarazione garantire quello che sono le elargizioni pianificate da parte della Regione. La piattaforma 210 lo ha dimostrato e è stata fortissimamente voluta dal sottoscritto attraverso il ruolo di Presidente dell'Anci perché ho detto che quel tema o veniva affrontato con determinazione oppure sarebbe stato assolutamente inefficace rispetto alle quantità delle risorse. Facciamolo in scala generale e vedrete che le cose cambiano in maniera sostanziale. Mangialardi, per lo sviluppo futuro della Regione Marche abbiamo bisogno soprattutto nella provincia di Peser Urbino di uscire dall'isolamento infrastrutturale. Qui parliamo di problemi di infrastrutture materiali e di immateriali. Volevo sapere il suo pensiero rispetto a questa importantissima tematica. Il mio pensiero è molto chiaro. Quando io mi sono reso conto che il 21 di luglio sarebbe cambiato di nuovo il mondo perché l'Europa ci metteva a disposizione per il sistema Italia 209 miliardi nemmeno comparabile al piano Marshall del dopoguerra. Quella è la chiave di volta. Se c'è un governo regionale autorevole, capace, determinato, con visione di quelle, di quei 209 miliardi, una fetta importante può cadere per risolvere i problemi infrastrutturali delle Marche. Però bisogna essere capaci. Io ho già attivato un percorso con il ministro Gualtieri, ho posto il tema della vertenza Marche rispetto a una questione che non riguarda solo la provincia di Pesero perché io penso l'A14, quella interessa tutto, ma penso all'uscita del nord del porto di Ancona, penso alla Fano Grosseto, alla Salaria, alla Pedemontana, il collegamento Estovos della Orte Falconara, penso al collegamento Ascoli A24, cioè un insieme di progetti che se non ci fossero quelle risorse, quelle risorse lì sarebbero solo elementi ancora una volta scritti nei programmi. Io sarò in grado di far cadere a terra quelle risorse, 8 miliardi, già trattate con il ministro per mettere in campo una svolta sulle infrastrutture. Ovviamente dentro questo non può rimanere fuori l'aeroporto. In studio questa sera con noi è anche il responsabile dell'ufficio stampa della CNA, ben trovato Claudio Salvi, a cui do la parola. Buonasera, buonasera Mangialardi. Salve. Uno dei temi più delicati e controversi in questo periodo è sicuramente quello della sanità. Parliamo in particolare anche della sanità pubblica, del problema degli ospedali. Ecco, che cosa su questo delicato argomento intendete fare nei prossimi anni per le Marche? Ma intanto abbiamo capito tanto con il Covid, lo abbiamo capito perché questa regione lo ha affrontato in maniera seria, siamo quelli che hanno chiuso per primi e quelli che hanno messo nelle condizioni le imprese di riaprire per prime. Non dimentico mai che i protocolli nazionali sono partiti da un'azione dell'Anci Marche con il governo regionale perché altrimenti i protocolli che erano arrivati erano assolutamente inadeguati. Poi il tema sanità. Intanto dobbiamo fare chiarezza perché parliamo sempre, lo vedo, lo sottolinano anche i miei competitor, sanità pubblica. Ma lo sappiamo che la sanità privata nella regione Marche pesa per l'8,21% e invece nelle realtà governate dai sovranisti e governate dalla Lega le percentuali sono completamente diverse. Non dovrebbero nemmeno parlare di sanità pubblica, non hanno come dire nemmeno una potabilità rispetto all'argomento. Perché nel Grande Veneto, quello lì che lo prendiamo per esempio, la sanità privata pesa il 24%. Nella grande Lombardia, quella che ha combinato quel bel pasticcio sulla gestione del Covid, governata dalla Lega e da Fratelli d'Italia, la sanità privata pesa il 40%. Il San Raffaele, il San Donato, l'Umanita, Silvesta, quelle grandi strutture che conosciamo tutte, sono tutte private. Lo dico ai miei concittadini, sono private. Quindi lasciamo da parte sanità pubblica e sanità privata. Quindi questo è il tema. Noi ne abbiamo un decimo degli altri. Poi sanità pubblica, che deve funzionare molto meglio. Non può essere una sanità ospedalicentrica come tutti nel nostro immaginario abbiamo sottolineato in questi anni. La battaglia era chi avesse un'unità operativa complessa a Fano, a Pesaro, e, ahimè, con i tetti di spesa che c'erano, è abbandonata la sanità del territorio. Oggi cambia il paradigma, ma cambia il paradigma anche con un'azione politica. Abbiamo capito che il Balduzzi, il decreto 70, deve essere modificato. E allora un accordo con Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, per modificare il Balduzzi rispetto ai punti nascita e ai punti di primo intervento. Questo è già il primo tema. Quindi un'avvertenza che poniamo al governo. Poi la medicina del territorio, quella che facciamo con il medico di base, con l'infermiere del territorio e con l'integrazione socio-sanitaria insieme ai comuni e ai servizi sociali dei comuni. Questa è la visione. Occorrono risorse. Recovery Fund, se purtroppo il governo non prenderà il MES, che è indispensabile, è un'azione che cambierà la modalità. Perché la medicina del territorio, l'abbiamo visto con le USCA, cambia il paradigma. Andiamo a prendere il paziente e lo serviamo a casa, diminuiamo gli accessi al pronto soccorso, diminuiamo le liste d'attesa e il paradigma sulla sanità vedrete che troverà una soluzione. soldi, tanti, e cambio della norma. Mangialardi, c'è un altro cittadino che ha un quesito da porle e lanciamo il prossimo contributo. Chiudono sempre più negozi e imprese, e non solo a causa del Covid. Cosa proponete di fare per aiutare gli artigiani e i commercianti? Io penso che intanto una facilitazione all'accesso al credito. È quello che in questa campagna elettorale ho riscontrato ovunque. E quindi la legge 13 del 2000, già che abbiamo costruito con le associazioni di categoria, ha individuato un percorso. Il confidi unico può dare una grande mano e dobbiamo metterci però risorse importanti, perché i 10 milioni di euro che sono stati elargiti durante il Covid non sono sufficienti. 100 milioni penso che siano quelli che recupereremo nel prossimo bilancio. E poi il tema, il lavoro in rete, digitalizzazione e internazionalizzazione anche per gli artigiani. Lì si aprono fronti importanti, sostegno delle start-up, sostegno anche della grande capacità dei nostri artigiani per proporsi fuori dal loro perimetro. Mettendo al centro il Made in Marche. Se siamo bravi su questo, una sfida fatta insieme, costruendo filiere adeguate, dove non solo ci sia l'obbligo di legge, ma ci sia la condivisione, penso che sia la sfida vincente. E poi la riqualificazione delle nostre città. Dobbiamo mettere nelle condizioni di avere dei mercati a cielo aperto. Noi dobbiamo pensare il grande centro commerciale che diventa la città, la città riqualificata, i nostri centri storici, i nostri borghi, quelli della bandiera arancione, messi in filiera, che diventano poi l'elemento determinante per l'appetibilità del nostro turismo. Ovviamente occorrono risorse, però ritengo che il lavoro in rete possa rappresentare la svolta anche per il sostegno sia del commercio che dei nostri artigiani, soprattutto dentro i centri storici. Diamo il benvenuto anche al responsabile territoriale della CNA Fano, Fausto Baldarelli. Buonasera. Buonasera a tutti e buonasera Mangialardi. Buonasera. Un altro tema importante per noi è lavoro e occupazione. La ricetta del candidato Mangialardi per lavoro e occupazione. Qual è? Noi dobbiamo ripensare il sistema, ovviamente non lo facciamo fuori da soli, però dobbiamo creare un ecosistema attrattivo, non solo, ma anche infrastrutture, materiali e immateriali, perché quello significa permettere di avere la fibra ad Apecchio e ad Amandola, quelle che considerano zone a fallimento di mercato. Invece noi dobbiamo iniziare da lì perché lì si crea lavoro, lì si possono insediare le start-up, lì si può mettere in campo l'operazione di richiamo e di valorizzazione delle grandi competenze dei nostri giovani. Il lavoro lo penso soprattutto per loro, non dobbiamo continuare a dire ci sono le fughe dei cervelli. Bene, noi non dobbiamo mettere recinti a nessuno, ma quello che ci interessa è dare opportunità ai giovani di potersi esprimere e di poter trovare occasioni di lavoro. Ci sono mondi che si possono aprire valorizzando il nostro territorio, agricoltura, turismo, piccola e media impresa, meccanica di precisione, ne siamo ricchissime, mettiamola al sistema e questa regione diventerà un elemento di attrazione e non di fuga. Mangialardi, si parla tanto di sviluppo dei territori il cui fulcro sono la cultura e il turismo. In questi due ambiti come ci si muove? Che cosa si intende fare? Ma guardate, intanto c'è una simbiosi. Il turismo e cultura rappresentano la stessa matrice attrattiva della nostra regione. Dobbiamo cambiare il paradigma anche se oggi siamo la seconda destinazione turistica al mondo, non lo dobbiamo dimenticare perché il Covid ha zerato anche quella certificazione. Cambiare lo schema, non leggere la costa e l'entroterra, ma avere la capacità di leggerci in ortogonale rispetto al mare, valorizzazione di quell'impianto che va dalla montagna verso il mare, dove dentro ci sono le nostre colline, ci sono le nostre produzioni di qualità, ci sono i nostri borghi, c'è l'enogastronomia, c'è l'elemento determinante. Il turismo è sperenziale, non ci si viene più nelle marche perché abbiamo il mare, ma lavoreremo per avere anche il mare, e quindi una promozione della regione tutte insieme, una promozione della regione fatta di luoghi, di arte, di cultura, di bellezza, che forse in Italia non ha nessuno, e poi l'accoglienza, l'accoglienza invece che è dedicata alla valorizzazione dei nostri contesti, dove possiamo lasciare un'immagine che diventa poi l'elemento trainante per riportare i turisti e fare economia del turismo in questa regione. Bene, non abbiamo tempo di aggiungere altro, io voglio ringraziare i nostri ospiti in studio, quindi saluto Moreno Bordoni. Grazie e buonasera a tutti. Saluto Claudio Salvi. Grazie, buonasera. Saluto anche Fausto Baldarelli. Buonasera. E grazie naturalmente a Maurizio Mangialardi. Beh, io ringrazio intanto la CNA per questa bella occasione. Abbiamo bisogno di tanta competenza, tanta conoscenza e tanta collaborazione. Spero che in futuro ci possa essere questo tipo di percorso. Un grazie naturalmente anche alla CNA in collaborazione con la CRAI. Grazie a voi per averci seguito. Continuate a restare su Fano TV e seguire i nostri programmi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.